We're just hopping, I got options, I can pass that bitch like Stockton Siamo con Brandon Miller e quindi con i Charlotte Hornets, ormai quasi diventati Jail Hornets Un saluto a Miles Bridges che per adesso viene messo fuori 2-4 mesi Non si sa nella realtà bene quando, come e se tornerà mai in NBA Non lo so, lasciamolo qui Per adesso abbiamo Brandon Miller, anche lui upgradeato a 99 di potenziale Per dare il solito boost un po' alle prestazioni, ma come avete visto la carriera di Scoot Non è detto che si vincano ogni volta 8-10 titoli, già vincendo un paio è un buon lavoro da farsi Ma se c'è una squadra che può da subito costruire una dinastia sono questi Charlotte Hornets Perché la Melo è clamoroso, Brandon Miller dovrebbe diventarlo e più ci sono altri giovani interessanti Tra l'altro due novità importanti in questa carriera simulata È la prima simulazione che andiamo a fare con James Harden e Los Angeles Clippers Ed è la prima che andiamo a fare dall'inizio con il torneo, quello dell'In Season Tournament Quindi in caso dovessimo vincere quello ve lo dirò, ve lo farò presente E lo conteremo anche per gli award finali Scusatemi anche se il gioco non li conta, vediamo Però teniamo presente anche quella roba lì Prima stagione allora in NBA per Brandon Miller Questa è la rotazione, una squadra Mediocrissima ma che con la Melo e Brandon può fare cose importanti Forse anche fin da subito La Melo è molto molto sgravato Come sempre le impostazioni mie dei contratti sono quelle che ho spiegato Nella primo episodio della carriera dei Wemby Che troveretele in descrizione, vi metto la playlist Lì basta poi andare a cercare il video Quindi ho modificato i contratti perché altrimenti ci sono gli 84-85 di overall free agent Non è risolto al 100% il problema ma diciamo al 75-80% Sì con un paio di impostazioni molto semplici Simuliamo la stagione regolare Arriviamo a 3 deadline e già ci sono brutte notizie Hanno scambiato Terry Rozier, The Third Certo che non è che sia per l'amor di Dio Però per Kyle Lowry nel 2023 è una seconda Che schifo Cioè veramente che schifo Simone Fontecchio è finito agli Spurs per lo champagne Godo che è finito agli Spurs Ma soprattutto voi vi siete persi Zach Levine per Clay Thompson Così i Bulls decidono di suicidarsi definitivamente Bene A fine della prima stagione Jokic 28 punti, 15 rimbalzi e mezzo 11 assist, 2 recuperi e una stoppata Con solo il 77% liberi Non so perché A mani basse direi nel VP della stagione Victorone Wimbaniama Rookie of the Year Purtroppo non riusciamo a spodestarlo Vabbè Insomma è difficile, lo sapete Siamo arrivati terzi Dietro a scute Dietro a scute e basta Abbiamo perso due partite della stagione regolare Una non so perché siamo perditi dalla panca Naseri del sesto modo dell'anno Giannis Defensive of the Year Paul Reid most improved con queste statistiche qui Vabbè Doncic è il giocatore decisivo dell'anno E Dervin M Ah Coach of the Year Ovviamente abbiamo fatto il primo quintetto matricola Quanto meno ci sta Dai Quello che di certo non abbiamo fatto sui playoff Ma proprio neanche per sbaglio Anche perché se non sbaglio Sì Peggio il record della Easter Conference Anzi A giorno Peggio il record della Lega Però vabbè sentite Meglio così Così picchiamo alto a draft Magari ci prendono una Matta Sono uno Ron Holland E vogliamo Dai Ci sta Le statistiche della nostra stagione Da rookie sono 15 punti e mezzo 5 ribazzi 3 assist e mezzo 1 recupero e 6 Addirittura Col 41 e mezzo dal campo E il 33 Diciamo Arrotondando un pelo da 3 Beh Oddio Non sarà rookie of the year Per l'amor di dio Ci sta Però Brutte statistiche E tutt'altro Ecco Cercherei di alzare un po' più queste Oltre che queste che si alzeranno Per ovvi motivi Bridges ha ucciso qualcuno di nuovo No Non nel senso Si scherza 4-6 settimane Morto Va bene Se vi steste chiedendo Secondo NBA2K Chi ha vinto la trade Tra Philadelphia E Los Angeles Clippers Beh Direi che Non vedere i Clippers Ai playoff E vedere I Sixth Salve Finals Contro gli Warriors Contro gli Warriors Ah Direi che Spiega già abbastanza Ah La VIN Si Dimenticavo Vero 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 Ok Steph Contro Embiid O forse Ah 4-0 Ok Bene Credo che Philadelphia Abbra vinto La trade Secondo Tukai Così a naso Bella lì Eccoci qui per i nostri playoff Non vi preoccupate Da Charlotte Ma è protetta La numero 1 potenziale Là sopra Non ne abbiamo altre A meno che non siano fuori Dalla lottere Quindi tocca sperare Quella scelta è nostra Adesso Non vorrei che sia Top 5 protetta Ma mi sembra proprio di no Quindi Ci deve dire proprio sfiga O forse è impossibile Che non sia nostra Speriamo di avere una Tra le prime tre Siamo rimasti Tra le migliori cinque Ma stanno succedendo cose Io ve lo dico Già vedo Cambiare squadre Cose Non mi piace Gli Spurs Hanno preso la 4 Vediamo Possibilmente Di rimanere Tra i primi tre I Pacers erano alla 6 Stanno schippando Posti su posti Thunder alla 4 Siamo tra le prime tre Pacers ancora lì Ma non usciranno Ve lo dico Eccoci qua Alla 3 I Pacers hanno preso la 1 Scritta proprio Si è ribuggata la 6 Come ai bei vecchi tempi Su questo 2k24 Spesso si buggava la 9 E invece niente Un ritorno Ai vecchi tempi Alla 1 I Pacers Noi siamo alla 3 Che comunque Direi che si casca In piedi comunque Sarebbe però Da scegliere bene Adesso Non sceglieremo noi Nel senso che Sceglierà la CPU Non abbiamo altre scelte Se non vedo male Quindi Ne abbiamo una buona Usiamola bene Eccoci qua Primo draft Di questa carriera Simulata 2024 Gli Indiana Pacers Scegliono alla numero 1 E portano a casa A Stephon Cassel Buono Buono Perché questo in teoria Ci lascia libero Beh Ron Holland Non credo Perché andrà ai Pelicans E la cosa mi spaventa Da morire Con Zion Potremmo avere libero Matas Buzeli Sono anche uno dei playmaker Che sono buoni Alla 2 I Pelicans Prendono Iseacogliè Dai prendiamo Ron Holland Che buono E che c'hanno già Brandon Miller Cazzo Stai a vedere che lo schippano Ma Brandon Miller Lo metto da 4 La Melo Ron Holland Brandon Miller Si domina Si domina Io lo dico Io lo dico Si domina Si vincono 5 anelli facili Questo è quel centro Baggato dell'anno scorso Della carriera Della vera MyCareer Se non sbaglio Il problema è che tipo Non sale di overhaul Ma poi tra l'altro Ma piuttosto una la grande Se proprio proprio Niente I Thunder con Ron Holland Ok Questa carriera simulata È finita per i prossimi 8 anni Probabilmente Occio che c'è uno scambio Alla 6 Che succede? Ah Pensavo di peggio La 6 E Landry Schemmett Per la 7 Van Vliet Quindi Washington Fa una trade down E invece i Rockets Trade up E quindi i Rockets Alla 6 Matas Buzeli Se chiama gli scemi Chiama gli scemi I Rockets E Kyle Filipposki Quello che è andato A Duke Sì Ah ecco Infatti è aggiornato Avevo letto sta cosa Ok DJ Wagner Non so se l'hanno Aggiornato Ed è potenziato Perché Jack Move Aggiorna spesso Le classi draft Ma è sceso addirittura Alla 14 L'ho visto andare anche Alla 1 Alla 2 Ogni tanto Questo qua Forse l'ha depotenziato Sì beh Penso che leggere Gli overhaul Di quelli prima E di quelli dopo Alla nostra pick Almeno fino alla 6 Penso che Ad Asmara Alla 3 Faccia già ridere Così In pieno stile Hornets Devo dire Benissimo Faremo a meno Di un buon giovane A quanto pare Alla prima Friacisi Ci presentiamo Con quasi 25 milioni Di spazio salariale Che potrebbero Portarci A portare a casa Qualcuno di buono Se i contratti Sono le previsioni Un po' più basse Per quel cambiamento Che ho fatto Io Come detto Lascio simulare a loro Ho levato i capold Di Lauri E Gordon Nella speranza Che non si pensino Di rifirmarli Ma le volte Lo fanno E mi incazzerò Ancora di più In caso Eccoci qua No Non dirmi No Ti prego No Ti prego No No Io No Io Sta carriera Simulata Già Già Non 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 Ma 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 Chi è Ma Solo gli Hornets Possono essere così Coglioni Da offrire un massimo salariare Ad Arden Nel 2023 Ma Perché Madonna Fra quattro anni C'è Varà 78 Di overall Meno Ma Porco Due Ho visto Arden Non mi ero neanche accordo Del più Sei Che si è preso Brandon Miller Alla fine della prima stagione Porca troia Ok Questa è una squadra La playoff Comunque Ad ogni Ad ogni caso Sono andati su Praticamente tutti A parte PJ Washington Strano Benissimo così Pronti ai nastri Di partenza Della seconda stagione Il nostro quintetto Si è assolutamente Potenziato Tra l'altro Ho controllato Adas Mara Ciao 84 85 Di potenziale Quindi si Ok Buono Ma Nel senso Per prenderlo La tre Con Ron Holland Libero Si poteva fare Un po' di meglio Con la mela 91 Secondo me Possiamo fare I playoff Assolutamente Con questa squadra Vediamo Vi segnalo Intanto Ve l'avevo promesso Che avrei guardato Abbiamo passato Il turno Dell'in season Tournament Giochiamo la partita Diretta contro i Bucks E vinciamo Azz Con un Brandon Miller Da 36 7 7 Ok Semifinale Contro i Miami Heat Peccato Seconda tra i Deadly E seconda cosa Che non capisco Ma penso sotto sotto Di aver capito Il perché Abbiamo tradato Dov'è? Eccolo qua Nick Richards È una seconda scelta Per Ricky Rubio Ai Cavs E una Prima del 2029 Intanto Dopo aver preso Lauri Prendiamo un altro Playmaker Morto Povero Rubio Con tutto rispetto E Nick Richards Era un giovane Abbastanza promettente Credo in scadenza E per questo Non ho rifilmato Perché abbiamo Draftato Adas Mara Se quella Prima scelta Non va in niente È una Trade Merda Pure questa Olè Stagione Quasi più Pat No erano 15 Rimbalzi Prima erano 11 Gli altri Quindi no Stagione quasi Negativa Per Jokic 27 14 11 Un rimbalzo E mezzo E una Una stoppata 50 80 40 Più o meno 38 Scusatemi La percentuale di tiro Stefan Cassel Vince il Rookie of the Year Isaiah Collier S.S.U.M.O.D. L'Anno Evan Mobley Vediamo il most improved No Se l'è vinto pure lui Va bene Niente da fare Jokic Giocatore decisivo Mike Malone Coach of the Year Il nostro Ramelo Ball Si è fatto il secondo quintetto L'NBA Ci ho sperato Per un attimo Niente da fare E noi intanto Zitti zitti Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti Facendo i play-in Cosa ci facciano qui I Celtics Io Non ne ho La più pala idea Forse perché hanno Dall'Anno Banta Un titolare Però Non mi sembra una scusa sufficiente Avranno già l'Embrano rotto Sì Anche Giuolide Ok Però Insomma Penso prenderemo una bella sberlona E invece andiamo a vincere Vuoi dirmi che facciamo i primi play-off Alla seconda stagione Sì Serviva? No Va bene? Sì E noi abbiamo fatto 19,8 punti 6 rimbalzi e mezzo E 5 assist Voi ti state dicendo Che cazzo sto guardando? Tranquilli Si bagga ogni tanto Queste due statistiche qui Di Bryce McGowan E se Jalen Owe Sono sui 36 minuti Ma sono listate qui Come se fossero normali Quelle che sono normali Sono i 24 punti e mezzo Se rimbalzi quasi 11 assist Di Lamello Che ci ha cariati Arden ha fatto 10 assist E 20 punti E noi siamo stati Lì dietro Una ottima seconda stagione Per 80 partite giocate E allora Senza pretese Viviamocelo assieme A questo primo turno Di play-off Ehi Ehi Lamello 39,6 e 6 Com'è l'esordio Di Brandon Miller Ai play-off Oddio Sì Non disastroso Certo Però 15,8 e 17 assist Di Arden La madonna Ma sto Arden Lamello Una delle coppie Più swag Dell'NBA Tu vuoi dirmi Che funziona veramente? Io Stento un po' A crederci Devo dire la verità Ok Però due pari Al primo seed Gliel'abbiamo portata via Senti eh Vediamo gara 5 In trasferta La perdiamo Gara 6 La perdiamo Posso dire Ci sta E comunque L'esordio di play-off In 6 partite 17,7 e 6 Per Brandon Miller Va benissimo così Alle finals Non quest'anno L'anno prossimo Secondo NBA 2K Troviamo ancora Gara i Warriors Cariati dall'arrivo Di Lavin E I Knicks Che perdono in gara 7 Delle finals Con Steph Curry MVP Che raggiunge 5 anelli E dovrebbe essere Forse 4 Non lo so Potrei aver perso il conto Non so come commentare Questa cosa I Knicks hanno perso Io godo Facciamo così Attenzione Nota a margine Lebron si è ritirato 1-2 stagioni Prima del solito In questa simulazione Quindi I suoi record Saranno più battibili Ce lo ricorderemo Fra un paio di episodi Ho schippato la lottery Perché noi non ci siamo E ho trovato i Celtics Alla 1 Con Brown Tatum Porzingis E Holiday A roster Quelli che abbiamo battuto I play-in Perché due erano rotti Devono aver fatto Una sculata Leggendaria Alla 1 La nostra scelta Che era la 15 Ci saranno gli Spurs Perché Non me lo ricordo E quindi Draft 2025 I Boston Celtics Alla 1 Vanno a prendere 3 Johnson Ok Vedo la 3 Alla 4 I Rockets Alla 2 I Thunder Prendono Ace Bailey Noi facciamo da spettatori Non paganti I Rockets Prendono Dylan Harper Alla 3 E Cooper Flag Alla 4 Tiè Gli Spurs Cambiano la 7 Vediamo se c'è qualcosa Di pazzo Bradley Bill Beh Beh Insomma È un po' pazzo Non è tipo Booker per la 2 Per la 1 Cos'era successo Una simulazione di scutti Insensata Ok Via Bill È al suo posto Dentro Johnny Fland Non guardo neanche Lì della moratoria O dei contratti Perché tanto con Arden È la melo Al massimo salariale Che chi cazzo Dobbiamo prendere Vorrei sapere E gli altri Sono tutti a contratto Quindi bene così Di fate Non arriva nessuno Ma abbiamo già L'accoppiata Brandon Miller in due stagioni È arrivato a 90 Di overhaul Porca troia Neanche Wemby È seguito così tanto Velocemente Madonna santa James Harden Non è sceso Che botta di culo Mark Williams È ancora qui E l'anno prossimo Sarà da rifirmarlo Ah Abbiamo preso Nonno Quasi bis Nonno Orford Che sarà la nostra Alla grande titolare Insomma Vabbè Ripeto Una squadra payoff Abbiamo 2,90 Forza Pronti Per la terza stagione Quintetto Da 90 Sì 90 niente Da 80 più Tutto quanto Più uno in panchina Isaac O'Coro La squadra Si sta assolutamente Migliorando Brandon Miller 30 minuti Vabbè Speravo di più Lasciamogli Ci allena ancora Andiamo a vedere L'efficacia del sistema Abbiamo 4 stelle Con ritmo spazio Steve Clifford Non è che sia Proprio entusiasta Di questa cosa L'importante è che Brandon Miller Abbia la barretta piena Vuol dire che ha Come dire Ha suo agio Con il sistema E gioca meglio Simuliamo la regola season Non ho mai visto Jokic vincere Così tanti MVP Come in questa simulazione E mi fa ridere Che ogni simulazione Sia diversa In NBA 2K Eppure se è lo stesso gioco Gli stessi classi draft Stessi coach E la stessa modalità E niente Ogni volta Se entri in un multiverso diverso Che però Rende anche affascinante Questi nostri viaggi Nelle carriere simulate Ian Jackson La matricola dell'anno Alfernee Simon Sixman Difensive player Wayne Bagnama Zachary Researcher Most improved Damian Lillard Clutch player Rimasto a Milwaukee JB Bicchelstaff Coach Ovviamente abbiamo fatto Una buona stagione Quest'anno si Non a caso La Melo Ve l'ha imprimato Premiato con il primo quintetto Secondo Minchia Scoot Azz Secondo me Io ci speravo Nel terzo Purtroppo niente Cazzo Addirittura Secondo Seed Mi ero Un attimo distratto Non pensavo addirittura A 52 vittorie Wow 52 35 vittorie Di distacco Dai Cavs Mamma mia Di là la Western Conference 5 squadre sopra Le 50 vittorie Equilibratissima Houston Prima E ovviamente Al primo turno Abbiamo preso i Celtics E certo E figurati se no No Bah L'anno scorso La partita secca L'abbiamo vinta Madonna James Harden Sì ancora Brandon Miller 29-6-8 Questa Sì nella partita Di playoff Harden ancora Sai che forse Già sputato Un po' troppo Sopra A questo scambio Anzi a questa firma In free agency No adesso No da 3-0 4-3 però No 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 tu che Ti conosco No Ok Meno male 4-2 Ottimo Azz Secondo turno Contro Philadelphia La ex squadra di Harden Attenzione Questa scossa eh Eccoci qua Si sono presi a cazzotti Harden ha fatto 23-10 Brandon 1031 La Melo 27 Però Cori Kispert Ha fatto 30 punti Contro dei noi 8 su 12-3 E certo E dopo averne rubata Anche noi A nostra volta Una in trasferta Vediamo Gara 5 In casa Andiamo a perdere Allora mi sa che ci meritiamo Proprio di uscire Madonna mia Ah 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 Ok Me l'ero perso Questa cosa però Vinciamo la sesta in trasferta Con Brandon Miller Sugli scudi Quasi tripla doppia Nonostante le 6 palle perse Bravissimo PJ Washington Dalla panca E allora gara 7 Sì Si ribaltata lì Così che bella Oh Benissimo Brandon Così così Ma partita di squadra Corale Prima e finale di conference Alla terza stagione Contro i Cavs Che sono i mostri finali Come sempre In questo inizio di carriera Anche perché hanno preso Anche Tobias Harris Giochiamo in trasferta Ma andiamo a vincere la prima Andiamo a vincere anche la seconda Ehi 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 Finals Già Dai Porta la casa in 6 Bello Bello lì così Con la melobola Vabbè ovviamente La squadra è la sua Ci mancherebbe altro 24 punti 11 assist Finale in via La terza stagione Con Brandon Miller In gara 6 Decisiva Top scorer 22 7 rimbazzi 7 assist 4 recuperi Tiè Vinta di 1 A dir poco decisivo E adesso contro i goat Dei Dei cosi Qua l'avevo detto io Meno male che Giddy è rotto Forse sei andato Dov'è Boh Non lo so C'è Valanciunas Non è che l'hanno tradato Boh Non c'è Ron Holland Qua Non lo so So solo che Jalen Williams Ha 90 di overall Mentre c'è 186 Cosa cazzo sto vedendo E poi hanno tradato Ma 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 c'è Valanciunas Ma che è successo Vabbè sono meno forti Di quello che pensavo Vabbè che in realtà Al 90 che pensavo Avesse Giddy C'è la lui Quindi boh Giochiamo Credo in trasferta La prima Andiamo a vincerla Se in trasferta È tanta roba Brandon Miller Resorto le Finals 22-3-5 Non con statistiche fantastiche Ma abbiamo comunque vinto Giocando così Mi sembra una buona cosa Ovviamente Perdiamo la seconda Perdiamo la terza Ti prego no Vinciamo la quarta Bravi Bravi Miller top scorer Vinciamo la quinta E siamo ad un passo Da vincere anche la sesta Perché non sto zitto Perché non sto zitto Passiamo la palla Lamello Per piacere Che fa 2 su 2 I liberi Ma non è finita comunque MVP chance Per Lamello Well deserved Buono il primo Più due Il secondo ovviamente È ancora più importante Anche se non chiude Comunque la partita Più tretta In Mount Thunder Adesso bisogna difendere Vabbè ma questo No lo prendiamo Ragazzi Ragazzi Ma ragazzi Ma non le sbaglieranno Tutte Mazzaccia troia Ma eravamo più 3 Palla in mano A 30 secondi Dalla fine Immagino il tiro Se lo prenderà Lamello Per vincere il titolo In gara 6 Però se lo prendesse Brandon Miller Sarebbe bello No Tirerà Lamello 100% Questo è il tiro Che sceglie di prendere Mio fratello Mio fratello Lamello Mio fratello Mio fratello Lamello Con la bomba Per vincere il titolo Date le VP Le Finals Date di tutto Non mi interessa Però la terza stagione Abbiamo già vinto il titolo Io l'avevo detto Avessero preso Ron Holland Erano 5 titoli Nei prossimi 8 anni Garantiti Non mi hanno ascoltato Ma il primo titolo C'è lo stesso E ok si A casa E muta Eccoci qua Ah pure Arde Abbiamo fatto vincere il titolo Quasi me l'hanno dimenticato È vero Guarda lì Che festeggia Mamma mia Gli strip club di Charlotte Sono pronti a sbocciare Eccolo Brandone Che alza il titolo La terza stagione Guardalo che contento Dai Dai le VP Delle Finals Allamello E togliamoci da qua Forza No In realtà godiamocelo Il primo titolo Non abbiamo fretta Eccolo qua Lamelone Che porta alla terra promessa Questi Charlotte Hornets Nonostante Diciamo Delle scelte manageriali Un po' infelici Ecco Diciamo così Un po' infelici Bravi tutti Ok Ci dice che Brandon Miller Ha vinto le VP Delle Finals Adesso andiamo a vedere Quale è giusto Comunque Brandone 22 punti 5 rimbazzi 5 assi 2 recuperi 46 90 40 Alle prime Finals Alla terza Stagione Permettetemi Non male Ah Qui dice Brandon Miller Oddio mi sembra Veramente un furto A mano armata Vabbè Ok Io ho sempre ragionato Che chi lo alza Nel video È l'MVP Delle Finals Però se c'è scritto Lì nei risultati Boh Ditemi cosa ne pensate Nei commenti Grazie Facciamoci ancora Una stagione Che magari Prova a vincere Il back to back Ovviamente Avendo fatto I playoff Anzi Avendo vinto Il titolo La nostra scelta È la 30 E non mi sembra Di vederne altre Che siano nostre Ma A questo punto Comincio già A fregarmene poco Del draft Forse non dovrebbe Però Dai Io voglio vincere Un altro titolo Subito Sempre con Steve Clifford Coach Diamo un'occhiata Però ai draft Finché ci sono I giocatori reali I Warriors Avano vinto il titolo L'anno prima E vanno a scegliere Alla 1 Poi Pensate Cameron Boozer Alla 2 AJ Di Bansta Di Bansta Quello che è Coapetta Alla 3 Con Wemby Caleb Wilson Alla 4 E Kitens Qua Tens Qua Alla 5 Per la cronaca Noi con la nostra 30 Prendiamo Mitch Shepard Ma vai a sapere Eccoci qua Addirittura abbiamo già sorpassato la melo Io Non ho fatto nulla Cioè gli ho solo alzato il potenziale Lui è salito di 6 Di 5 Di 4 Nelle prime tre stagioni Allucinante Veramente allucinante Zitto zitta Sta carriera di Bredon Miller Potrebbe essere allucinante Poi Arden Non cala di overall Mark Williams Rifirmato A che cifre Direi delle buone cifre Assolutamente Abbiamo preso John Collins Per delle oneste cifre Nick Smith Jr Anche credo L'abbiamo rifirmato No All'ultimo anno dell'anno Da rookie Continua ad essere Un'ottima squadra Quarta stagione Arden addirittura Sale Inizio Arden Un'eterna Giovinezza Questo contratto Alla fine Guarda Abbiamo già vinto un titolo Va benissimo così Adesso abbiamo 780 più di overall E i loro due Potrebbero diventarlo Durante la stagione Quindi Una rotazione Adesso anche Molto profonda Proviamo a vincere Anche l'inseason tournament Io lo tengo sempre Sotto occhio Dai simuliamo John Collins Tempo neanche di arrivare Di ambientarsi Al 10 gennaio L'abbiamo scambiato Per Draymond Green Non creo ci fosse bisogno Devo dire la verità Vabbè Finalmente cambiamo MVP Luca Doncic Che però le statistiche Sono di Insomma Di Jokiciana Memoria Cameron Buser Rookie of the Year Rusty Westbrook Sesto nuovo dell'anno Ah A Golden State Ok Anthony Davis Defensive player of the year Dylan Harper Most improved Theron Fox Giocatore decisivo Mark Dino Il coach of the year In tre simulazioni Non ho mai vinto Il clutch player of the year Non so che devo fare Boh Vabbè Purtroppo Solo lamello degli Hornets Nei quintetti Al terzo E anche qui Sono perpresso Perché l'overall È molto molto alto Eppure non lo vedo mai Nei quintetti Non abbiamo fatto Una stagione Stellare Però comunque Un altro secondo Sido Adesso lo copro Ma credete Mi ho portato a casa Toh Due vittorie in meno Dell'anno scorso Ma comunque 50 E a due vittorie Dai primi Una Easter Conference Un po' triste Devo dire Triste Non è stata La stagione Di Brandon Miller 21 punti e mezzo Se rimbazzi Se assiste e mezzo Credo che un terzo Quintetto L'NBA Ce lo saremmo meritato Anche perché Sono due recuperi A partita Vabbè Se volete snobbarmi Così Cazzi vostri Cosa devo dire Vinciamo un altro titolo Noi via Un facile Senza sudare 4 a 1 Contro i Bulls Al primo turno Adesso abbiamo Miami Che ha votato fuori Philadelphia Godo 3 a 1 Andiamo a vincere A Miami La quarta partita E chiudiamola lì 4 a 1 Bene Paro 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 proprio Le due serie Finale di conference Contro Indiana Che rimonta 4 a 3 Cleveland Indiana Che ha due vittorie Più di noi E Ali Barton Ah Stefan Kasselmato Jules Walker My starter Mitchell Robinson Veramente Indiana Mai vista Nelle simulazioni Ultra esotica Ok Si Denver Di là Vediamo un po' Se riusciamo a fare Back to back NBA Finals 1 a 0 2 a 0 Per loro Aia Così proprio Oh bravi Oh bravi Bene Ma penso che abbiamo Sbagliato James Harden Da prendere Ce li hanno pure Allungato il contratto Tra l'altro Altri due anni Penso abbiamo preso Quello Di un altro Multiverso Che è ancora Nel suo prime Perché A 37 anni 50 e 12 Assist Io non credo Sia legale Come cosa E io mi sono lamentato Prima Ma pensate Con che coraggi Eh qua Mi sa che poi Ci sbattono fuori Eh Dai Han vinto tutte in casa Vinciamo la sesta in trasferta Pazza Scatenata Si così Si così Lamelo di nuovo MVP E andiamo Altri 50 di Harden No Vabbè 28 e 11 Di Lamelo 25 10 7 3 recuperi Di random miller E siamo di nuovo Le final svinta di uno Tra l'altro Rimatch con i Thunder Quest'anno Incazzati Come dei mostri Sono loro Con il fattore campo 1 a 0 Per loro Godo Tra l'altro Prestazione A tutto tono 31 8 10 4 recuperi Prendendo mille Sbagliando 4 tiri Adesso però Non bisognerebbe perdere A Charlotte La prima Lo facciamo La seconda Non lo facciamo E quindi torniamo In quel Di OKC E andiamo A rubare Gara 5 Ci rubano Gara 6 In casa Gara 7 Delle finals E questa Gara 7 Non solo La vinciamo Li distruggiamo Sul parquet di casa 142 punti Segnati Rimonta Dalmeno 15 Dell'intervallo Andiamo a vincere Il nostro Secondo titolo Consecutivo Alla quarta Stagione Certo E' tanto merito Di Arden Certo E' tantissimo Merito Di Di Perché fa il tifo Con no Fa Ma 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 Oddio Bellissimo gesto Di fair play Ma che cazzo Ci fai Sul palco Con noi Ma quando Quando scendi Ti ammazzano Ma poi Gara 7 Ma Ma Ha vinto Le vp Ah Adesso Ho capito Secondo me Hanno dato Le vp Delle finals A lui Che ha perso Ma su Tukai Non hanno creato Una scenetta In cui Quello che vince Delle finals E la squadra Perdente Quindi se vince Le vp Delle finals Hai vinto Festeggi Con i vincenti Pur avendo perso Eeeh E' una novità Questa Però la melo Ha fatto 53 7 rimbalzi 5 assist In gara 7 Delle finals Non ha vinto Il premio Dvp Secondo Tukai Io Ho Veramente Perso Le parole 53 punti In gara 7 Ok No In realtà Le vp Ha vinto La melo E ci mancherebbe Altro Direi Boh Sì Ce lo conferma Anche lo storico E allora Va bene così Signori Dopo questo Finale Di primo episodio Pazzo Ma un primo episodio Totalmente pazzo Perché io Non mi aspettavo Questo dominio Questa legacy Già creata Dal buon Bernon Miller In un cazzo Di episodio Vediamo nel prossimo Quanti titoli Vinceremo Assieme Alli Charlotte Tornas Grazie per essere Guardate fino in fondo Grazie per la compagnia E anche per il supporto Che già Basta Un bel mi piace Un'iscrizione Un commento Ma se volete fare Anche l'abbonamento Su youtube Perché no Avete qualche contenuto Extra Lì pronto Ad aspettarvi Detto ciò Ci rivediamo Alle 18 Con la serie di Spider E nei prossimi giorni Con un nuovo video Ciao boys